ciao amici oggi parliamo di un minerale importantissimo il calcio e quali sono gli alimenti che lo contengono ma cos'è il calcio e a cosa serve il calcio si trova già nel nostro corpo in abbondanza nei denti e nelle ossa ma anche nei tessuti nei neuroni nel sangue e nei liquidi corporei vuoi dire che le cellule e gli organi giocano a calcio ma no intendo il minerale non lo sport il nostro corpo ha bisogno di mille milligrammi di calcio al giorno specialmente le ossa che senza calcio vanno incontro a osteoporosi ma non solo vediamo allora insieme 10 alimenti ricchi di calcio da mettere sulla nostra tavola se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 latticini yogurt formaggi e burro sono in pole position tra le fonti di calcio 170 grammi di yogurt contengono 300 milligrammi di calcio lo yogurt fornisce anche fosforo e magnesio che aiutano l'assorbimento del calcio 2 latte di riso mandorle e soia sono l'ideale perché è intollerante al lattosio o non consuma latticini ma non vuole rinunciare al calcio i latti vegetali ne contengono una buona dose sono più leggeri e meno calorici 3 sardine non fatevi ingannare dalla grandezza 3 sardine da sole contengono 325 milligrammi di calcio 4 girasole e sesamo due cucchiai di questi semi contengono 65 milligrammi di calcio se non l'avete già fatto provate il tahin la pasta di sesamo è ottima per il calcio 5 legumi una tazza di legumi contiene 200 milligrammi di calcio e sono perfetti anche per la dieta infatti le loro proteine e fibre vegetali aumentano il senso di sazietà 6 broccoli come molte altre verdure sono ricchi di calcio una tazza ne contiene 74 milligrammi in più sono ricchi di vitamina c antiossidante e di minerali come magnesio e ferro 7 mandorle possiamo assumere 210 milligrammi di calcio ogni 30 mandorle insieme a fibre e oli buoni per la salute 8 cavolo una quantità pari a una tazza di cavolo contiene 210 milligrammi di calcio oltre a sostanze antiossidanti 9 fichi in 5 fichi sono contenuti 175 milligrammi di calcio un buon modo di assumerlo con dolcezza 10 alghe vale sempre la pena inserirle nella nostra dieta sono una buona fonte di minerali e di calcio 100 grammi di alghe forniscono 300 milligrammi di calcio avete visto amici come è facile assumere il calcio di cui il nostro corpo ha bisogno ogni giorno integrando nella nostra dieta alcuni semplici economici e gustosi alimenti per vedere tanti altri video sui migliori alimenti per la salute e la bellezza è facile iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale avere cura della salute con il calcio è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile mangia sano e vivi meglio abonatevi al canale